Buongiorno a tutti ragazzi qui c'è un boicracco 52 su Star Wars Battlefront 2 nella missione della morte nera vediamo che diavolo succede è quello che vorrebbero fare tutti andiamo chi è? ah defendere l'hangar per 2 minuti ok grazie no eh eh cavolo cavolo vabbè cavolo quel cecchino è temerario tiè tiratore scelto vediamo un po' se mi è andato oh non mi è andato il tubo cecchino vieni qua vieni qua vieni qua oh mio dio oh no non mi avrete ma che fanno aia non mi sembra il caso di usare il cecchino ma ma infierisce anche dai che cavolo è l'orlogio ok è questo che fà qua buona buona mancano 15 secondi ingegnere è meglio che ti fai a curare attacca ok due uno attacca togliti imbecile andiamo avanti non c'è nessuno ah aiuto sto per cadere di sotto ah mega ultra uccisione eh ma sei scemo allora avanti lei muoia è male anche ah ah aia che caspio ok andiamo 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 no dell'altra parte muori muori aaa aiuto mi ammazza mi ammazza mi ammazza non mi ammazza ah e non ho vita per un tour cerchiamo di giocarcela aaaah 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 che cavolo ma ha fatto tic e sono morto male prendiamo l'assaltatore e andiamo avanti aaaah qual è quella una sonora muoia lei la fulmina lei che fa? muoio subito dai non è vero 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 avanti aaaah difendetevi da quel drone di morta io ho le attività blu sono più figo di tutti ahah grazie 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 oh mio dio devo andare di qua sperando di non morire ok puoi andare di qua carichiambo il col toh eh ma è ricaricato si ah troppa gente troppa gente troppa gente toh ah no ahia 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 ah fermo ah vammazza vammazza aiuto eh che caspio però però ce le si può fare andiamo con il caro e vecchio soldato eh dove mi sono perso no erico che capo faccio andiamo all'attacco parkour beh allora corri 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 piccolo grande soldato che va a 30 fps avanti toh che ma lei ma lei ma tu muori ok toh ve la regalo ma funziona toh vi regalo anche questo ma che vuole fare ok 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 ho capito come devo fare corre corra madonna madonna aaaah ma muori ma vaffanbro hanno chiuso violentamente mente la porta aiuto se la puoi se la puoi do fare muori no to' ho lisciato aaaah 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 fuk sono andato di sotto sono andato di sotto ok ma aaaah muoia dove devo andare mi sono perso aaaah 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 no ma ammazzerai ma che un minuto ce la dobbiamo fare non ho voglia di rifare tutto e l'ho anche poca vita non vado in questa cosa ahah aaaah 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 oh fortuna che qua c'è un punto di romando avanti aia 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 li mortacci tua ma questo che infierisce sul corpo anche ma che cavolo fai ma c'è troppa gente per il mio gusto uccidetelo ma è così difficile che cavolo è vai oh madonna si ce l'ho fatta mi sono suicidato per la buona causa c'è 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 un jedi ok c'è un jedi copiamolo medic che c'è un jedi copiamolo subito c'è un jedi c'è un jedi c'è un jedi muori muori cavolo quasi mmm non è l'arma giusta andiamo di qua ma che cavolo fate ma muori ma muori siamo in nove siamo in nove ce la dobbiamo fare muori ma tu sei un pazzo ma muorici male subito dai jedi a noi due ma quanto cavolo pari aia aia ho un'idea vediamo un po' se funziona dai vieni qua ce l'ho fatta vero? si ce l'ho fatta il leader ha stato distruttato i nostri rinforcamenti possono prenderlo da qui l'uprise ha stato bruciato benvenuto troppo il lord vader sarà più felice con la tua performance si abbiamo vinto abbiamo vinto che culo oh mio dio credo di aver perso seriamente dopo l'imbarassamento della scuola il lord vader ha usato dal nostro calcio e iniziò tra l'imbarassamento i 501 across la galaxia in una vera per i plani di nuova erano 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 pazienza capita oh mio dio che botta di culo incredibile dopo questo lissio assurdo noi ci vediamo alla prossima parte per la prossima per la prossima per la prossima